Da oltre 35 anni Un anno original BERT si distingue nel settore dell'automotive per l'innovazione e la continua ricerca della qualità. L'impegno e l'esperienza consolidata dell'azienda è rappresentata dalla costante ricerca dell'innovazione, dall'individuazione di brevetti esclusivi, dalle prove di laboratorio mirate ad ottenere le più alte prestazioni, dalla produzione efficiente e sicura, dalla gestione puntuale delle commesse, da un rapporto basato sulla trasparenza e la fiducia con i propri partner, fornitori, distributori e clienti finali. I risultati dell'original BERT si deducono dall'analisi dei suoi numeri. 40.000 m2 complessivi, 17.000 m2 di superficie coperta, 58 paesi serviti in 5 continenti. Siamo presenti all'autopromotech quest'anno per poter anche presentare la nostra nuova struttura che ha impiegato per la sua realizzazione per la fabbrica oltre due anni e per la nuova parte altri tre anni. Quindi dopo cinque anni di duro lavoro siamo riusciti a completare quello che era il nostro progetto iniziale che ci dà la possibilità anche con l'acquisto di nuovi macchinari che nel 2015 amplieranno in maniera significativa tutta la nostra parte produttiva. Ci dà una grossa soddisfazione quello di poter presentare anche il nuovo video della nostra azienda dove viene presentata proprio la nuova struttura in tutte le sue fasi produttive e in tutte le sue fasi anche di rilascio degli ordini, lavorazioni e tutto quanto ne consegue. Fortunatamente la BIRT riesce sempre a essere innovativa in tutti i suoi processi produttivi. La prima struttura che ora vedrete all'interno del video è una struttura che ha realizzato cinque anni ma è una prima parte di un progetto ancora più grande dove ci sono altri 10.000 metri di immobili che saranno realizzati nei prossimi anni che amplieranno ancora di più la nostra capacità produttiva e ci proiettano sempre di più nel futuro in un mercato che è sempre molto competitivo ma ci dà la possibilità, rinnovandoci, di essere un player del settore che cerchiamo di affermarci il più possibile. Anche quest'anno ci presentiamo all'Autopromotech di Bologna con delle novità come d'altronde tutti gli altri anni. Una di esse riguarda la presentazione di tanti nuovi prodotti per la gamma asiatica. Diciamo che vogliamo seguire non solo la tendenza del settore ma anche fornire sempre di più il servizio ai nostri clienti per far sì che abbiano sempre una gamma aggiornata in base alle necessità che offre o che richiede il settore. Un'altra novità è la ristrutturazione dei componenti che riguardano l'ammortizzatore. Abbiamo circa 700 componenti tra supporti ammortizzatore, tamponi, cuffie che li stiamo ristrutturando in kit per far sì che il cliente finale abbia la facilità di avere in un solo scatolo tutti i componenti necessari per facilitare la riparazione dell'auto. Diciamo che tutte queste novità sono poi presenti sul nostro sito web www.birt.it dove ci sono tante informazioni che sono interessanti per aggiornare ogni operatore del settore. www.birt.it 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 www.birt.it